Tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona è scoppiata una lite furibonda in un ristorante di Milano. Lo riporta da Gospia, secondo cui la showgirl non ha gradito l'improvvisata dell'ex paparazzo che l'ha raggiunta durante un pranzo con la mamma Veronica Cozzani e un'amica. «Ci mancano solo le foto con te, Fabrizio, così mi fai saltare i contratti», avrebbe detto l'Argentina vedendolo comparire. «La lite al ristorante» tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. Mentre Belen Rodriguez si stava godendo un bel pranzo con la mamma Veronica Cozzani e un'amica, fuori dal locale erano assiepati i paparazzi che attendevano di vederla uscire. Quando è arrivato Fabrizio Corona, la showgirl ha subito temuto per la sua immagine. Una foto insieme avrebbe potuto compromettere alcuni contratti di lavoro, 3A cui quello di uno show del sabato sera e una campagna pubblicitaria alla quale sta lavorando. L'improvvisata dell'amico è stata tutt'altro che gradita e Belen è andata su tutte le furie. La storia d'amore per Belen Rodriguez e Fabrizio Corona hanno fatto coppia per tre anni a partire dal 2009. Lui era reduce dal divorzio da Nina Moric e lei stava iniziando la sua carriera in tv. È stata una storia tormentata e finita bruscamente, ma i due sono rimasti in ottimi rapporti. L'amore finisce, il bene no, aveva detto l'ex paparazzo. A lui non rinuncio, gli voglio bene, ha affermato lei. Ma come in tutte le belle amicizie, capita qualche volta un momento di nervosismo e secondo D'Agospia, il ristorante a Milano, i toni si sono fatti accesi. Un periodo complicato per Belen Rodriguez, Belen Rodriguez, sta attraversando un periodo complicato, fatto di luci e ombre. La fine della storia d'amore con Stefano De Martino l'ha lasciata a pezzi e anche la relazione con Elio Lorenzoni, che sembrava destinata a risollevarla, è andata in frantumi. Lei di certo non è una che si perde d'animo, tutt'altro. Cerca di reagire con positività e per marcare un nuovo inizio ha comprato una casa. Sono single, ha tagliato corto sulla sua vita sentimentale quando il gossip che la voleva in coppia con Bruno Cerella si è fatto infuocato. In tutto questo tempo Fabrizio Corona è sempre stato dalla sua parte, difendendola sempre dagli attacchi e dimostrandole il suo sostegno via social. E tu cosa pensi della notizia?